Ciao a tutti i dolci unicorni, io sono Deborah Precosim e questo è il mio canale oggi come avete detto dal titolo vi farò vedere le mie due calamite di Miraculous e gli amici cucciolotti 2018 iniziamo dalle calamite ne pesco una a caso pesco questa che dolce lei Marinette che pensa ad adrian non voglio mettere a fuoco Vabbè non si vede Un cuore intorno a loro Vabbè Ora passiamo ai amici cucciolotti Prima vi voglio fare vedere le scatoline Sono 2018 queste cose Questo album Ecco una card Non trovo mai niente Hashtag sfortuna Vabbè Comunque si trova questa scatolina Che dice altro che messaggini Consegni parlottini Dopo questo scrigno porta doppie Lo dice pure qua Qua io ho messo uno stickers Qua pure della zampa Qua invece c'è una card No una ce n'è un'altra A volte parlare è difficile E qua gli puoi raccontare un racconto Che non ne ho mai raccontato a nessuno Vabbè Qua c'è l'album Ecco Ragazzi l'ho trovato Ecco Qua ci sono i stickers I famosi stickers Che stanno finendo Qua io lo messo un po' All'album Ed ecco l'altra card Questa è C'è Qui c'è una lista di cose Di cui ho bisogno C'è scritto Qua c'è Ne aggiungiamo uno a noi Sincerità Affetto Amicizia Lealtà Posso contare su di te? Certo E qua c'è l'album Che carino Qua c'è scritto Amici Figurine Perché già io L'ho appiccicata Scusatemi Ma il mio telefono Faccio video col telefono Ecco l'ho svelato Perché molti lo fanno nella telecamera Però questo è Troppo Il telefono era scarico Quindi non ho potuto fare La recensione Sì Questo l'ho attaccato io Non ce ne sarò Una volta che mi attaccate Come vedete Vabbè Controlliamo Direttamente Controlliamolo Direttamente qua Numero 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 505 Più avanti Più indietro No Più indietro Che carini Qua io gli ho messo Il pastore tedesco Gli altri Gli hanno messo una faccina Dove Vabbè Noi ne parliamo E dopo questo Ah ragazzi Voglio dire Raggiungiamo 4-8 Mi piace Almeno 8-4 Non lo so Qualunque Like Per fare La recensione Dello slime Fa da te Di Yolanda Suiz Il mio idolo Lei Mi piace tanto Andatela a seguire E Non avanti Dove sei Non lo trovo Non lo trovo Non ti trovo Ecco Giro Ci sono altre Altre cose Però Questo video Di sicuro Ecco qua Il Quasimodo E Atos Mi pare Qua c'è scritto Se questo video Mi sia piaciuto Lasciate un pollicione In su Iscrivetevi Al canale Al prossimo video Ah Prima di chiudere Vi volevo dire Che Non solo A 8000 Mi piace Farò Farò Quello Schifido Il fai da te Ma Non so quando Dopo un po' di giorni Farò anche Tipo Dei bigliettini Con delle scritte Delle domande Che io risponderò A voi In diretta Se il mio cellulare È carico E Che dire Ciao Questa volta Veramente Un bacione